Bombaggi super e il Teramo vince ancora. Niente da fare per il Catanzaro Albonolis contro un Teramo a tratti straripante che ha confezionato il terzo successo consecutivo dall'inizio dell'anno. È finita 1-0 per i Biancorossi grazie al gol di Bombaggi, l'ottavo per lui, messo dentro al 43esimo del primo tempo dopo che al 21esimo era già andato vicino alla marcatura stampando la palla sulla traversa. Nel primo tempo i ragazzi di Tedino hanno dominato per poi controllare molto bene nella ripresa il vantaggio. Bombaggi trascinatore di una squadra che sembra aver trovato il giusto equilibrio e soprattutto la giusta posizione in classifica. Il sesto posto. Parte bene il Teramo. All'undicesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Santoro tira una gran botta da fuori area che sfiora il palo. Al sedicesimo occasione per il Catanzaro errore in disimpegno di Cristini ne approfitta a Nicoletti che serve Giannone che tira centrale tra le braccia di Tomei. Al 21esimo bella azione dei Biancorossi, traversone di Cancellotti per il colpo di testa di Bombaggi con la palla che si stampa sulla traversa. Al 24esimo Birligea cade in area su netta spinta di Martinelli ma l'arbitro non fischia. Al 28esimo gran filtrante di Ilari per Bombaggi che da posizione defilata non inquadra lo specchio della porta. Al 37esimo gran giocata di Birligea in campo al posto di Magnaghi che libera l'avanzata di Cancellotti, cross in mezzo per Bombaggi che si scontra con il portiere ospite di Gennaro costretto ad uscire per infortunio. Al 43esimo arriva il meritato gol del Teramo, palla recuperata da Ilari sulla tre quarti, splendido filtrante per Bombaggi che avanza, palla al piede e in diagonale insacca la porta avversaria. Nella ripresa i Biancorossi controllano bene la gara, si susseguono i cambi. Nel Teramo nel corso del secondo tempo Magnaghi entra per Birligea, Viero per Ilari, Soprano rileva Bombaggi. Il Catanzaro pressa di più ma il Teramo è attento e mantiene alta la concentrazione. Al 72esimo parata a terra di Tomei su tiro di Casoli. L'ultima azione degna di nota per il Teramo arriva all'ottantacinquesimo, assist di Costa Ferreira per Magnaghi che calcia col Mancino e il portiere devia in angolo. I Biancorossi escono tra gli applausi meritati del Bonolis e già con la testa alla trasferta di domenica a Castellammare di Stabbia dove affronteranno la Cavese.